Musica Una grande partita, grande prestazione, grossa vittoria, ditemi qualcosa della partita Niente, abbiamo affrontato un momento difficile le scorse partite, soprattutto l'ultima, il risultato non aspettato Varie assenze, infortuni, ci hanno un po' compromesso, oggi ci siamo un po' ritrovati come gruppo, come squadra Anche atleticamente, quindi ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo portata via in casa, è sempre un po' più facile Cioè ragazzi, vogliamo parlare, vogliamo parlare con il mister Io dico solo di guardare il video perché ha fatto un euro goal il nostro Grazie mille Grazie mille